Questo incontro è per noi motivo di grande soddisfazione. Qui, nella casa dei cittadini e delle istituzioni, racconteremo, dalla voce di grandi professionisti, cosa significa in Italia fare inchieste giornalistiche che sfiorano il potere. Il 16 ottobre dell'anno scorso lo abbiamo visto molto bene cosa significa, quando un'autobomba esplodeva portandosi via Daphne Caruana Galizia, grande giornalista che a Malta ha dato tutta se stessa nella battaglia contro la corruzione. A lei oggi dedichiamo questo incontro, perché quell'impegno non si è vanificato, ma ci accompagni in quella che è la nostra lotta alla corruzione, a quella che è la nostra difesa costante della libertà di stampa. Diamo la parola al direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Direttore, la vicenda trattativa Stato-Mafia ha interessato buona parte del suo lavoro, con libri, spettacoli, teatrali, inchieste. Lei ha cercato di far comprendere agli italiani che cosa davvero ha rappresentato quella convergenza di intenti fra due forze, fra due figure che dovrebbero essere naturalmente contrapposte. Crede che i cittadini italiani abbiano davvero capito le conseguenze di quegli equilibri politico-mafiosi? Prego. Rispondo subito no. Mi scuso in anticipo perché dopo essere intervenuto dovrò scappare, ma devo partire per la Sardegna perché ho un processo domani mattina presto. Quello dei processi per diffamazione attiva o passiva intentati contro i giornalisti, oppure che i giornalisti sono costretti a intentare contro chi a sua volta li difama, è un bel tema, ma non è il tema di oggi. Certamente è uno dei fattori che contribuiscono a rendere più servile e più intimidita una stampa che già tradizionalmente nella sua media generale lo è. E quindi io apprezzo molto il fatto che qua in Parlamento si cominci a parlare di questi temi. devo dire la verità, a me non era mai capitato di essere invitato in Parlamento a parlare di trattativa Stato-mafia, anzi se c'era un posto dove proprio questa parola credo che non sia stata mai pronunciata, è proprio questo. Questo è un buon segno di cambiamento, ma secondo me sarebbe un buon segno di cambiamento se tutti i politici, quelli nuovi, quelli vecchi eccetera, imparassero a smetterla di parlare dei giornalisti, di dare le pagelle ai giornalisti, di elogiare quelli che parlano bene di loro e di attaccare quelli che parlano male di loro. È un malcostume che deve finire, perché purtroppo contribuisce a rendere l'informazione ancora più servile di quanto già non sia e si aggiunge al tema delle querele temerarie, delle cause civili ultra temerarie che i giornalisti di un certo tipo accumulano durante tutta la loro carriera. Io sulla trattativa Stato-mafia mi sono sempre domandato perché ci fosse tanta reticenza nel parlarne e non solo da parte dell'informazione, ma per quale motivo questo processo e Nino Di Matteo ne sa qualcosa imbarazzasse così tanto la corporazione della magistratura, oltre naturalmente alla politica trasversale. Che la politica trasversalmente non volesse sentir parlare di trattativa era abbastanza comprensibile nel senso che parlare di corda in casa dell'impiccato è sempre spiacevole per l'impiccato dato che questa trattativa è iniziata nel 1992 quando governava il centro-sinistra prima Repubblica e si è conclusa nel 1994 con l'ascesa al governo di Silvio Berlusconi e il varo del centro-destra Seconda Repubblica è evidente che il più pulito aveva la rogna e quindi nessuno voleva che si andasse a scandagliare quel terreno. La domanda riguarda il giornalismo e noi oggi parliamo di giornalismo di inchiesta. Il giornalismo che si è occupato o non si è occupato dell'inchiesta e poi del processo e poi della sentenza sulla trattativa Stato-mafia non è il giornalismo di inchiesta, è il giornalismo sulle inchieste, cioè la cronaca giudiziaria che naturalmente è una cosa molto diversa dal giornalismo di inchiesta. Il giornalismo di inchiesta non è quello che riferisce le indagini della magistratura, l'andamento dei processi, le motivazioni delle sentenze eccetera. E' quello che scopre con le proprie inchieste dei fatti che a volte poi possono anche originare delle indagini penali, a volte invece non sono fatti penalmente rilevanti e quindi riguardano semplicemente fatti di interesse pubblico. A volte il giornalismo di inchiesta ha addirittura anticipato il lavoro della magistratura, anche perché i giornalisti non sono tenuti a raggiungere un tale livello di prove come quello che sono tenuti a raggiungere i magistrati per poter ottenere un arresto, un rinvio a giudizio, un decreto di perquisizione. Quindi noi da questo punto di vista abbiamo qualche agevolazione in più per arrivare alla nostra verità, la verità giornalistica è molto diversa anche dal punto di vista proprio del livello probatorio rispetto alla verità giudiziaria, alla verità processuale e quindi mi sono domandato ma è possibile mai che noi abbiamo una vicenda così enorme, così clamorosa che secondo me se la scoprisse uno sceneggiatore americano altro che il padrino e mi domando per quale motivo uno sceneggiatore italiano non ci ha ancora fatto una serie che sarebbe infinitamente più interessante di quella di Gomorra, che Gomorra è una serie molto interessante ma riguarda uno dei tanti clan della Camorra in una terra abbastanza decentrata, qui stiamo parlando di Presidenti del Consiglio, Ministri dell'Interno, Ministri della Giustizia, altissimi ufficiali dell'arma dei carabinieri, i massimi vertici di Cosa Nostra, non Pietro Savastano, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca, quelli che hanno fatto saltare in aria l'autostrada di Capaci e poi la piazza antistante, l'abitazione della madre di Paolo Borsellino. Stiamo parlando dei massimi livelli dello Stato e della mafia processati, coinvolti e alla fine raggiunti da una sentenza che fa capponare la pelle per chi l'ha voluta leggere. Io ci ho passato l'estate, non l'ho ancora finita e la sto finendo. Io mi sono sempre domandato come sia possibile tanto silenzio. Perché tanto silenzio? È un silenzio che mi ricorda il processo Andreotti. Il processo Andreotti voi sapete che è stato accompagnato da diffidenze, minimizzazioni, irrisioni e alla fine è arrivata una sentenza che ci ha testimoniato come siamo stati governati per sette governi da un signore che era associato a Cosa Nostra fino almeno alla primavera del 1980, avendo cominciato a fare politica nel 1946, era un bel periodo, e dopo assolto per insufficienza di prove. E tutti gli italiani sono convinti che sia stato assolto, cioè che non c'entrasse nulla con la mafia. Lì la spiegazione, anche se Andreotti è stato processato praticamente da morto, politicamente parlando, era che un intero ceto dirigente non voleva minimamente passare alla storia come una classe dirigente collusa e quindi la spiegazione delle bugie che sono state raccontate scambiando la prescrizione per l'assoluzione, mentre ne era esattamente l'opposto a leggere le motivazioni della sentenza. Bene, tutto quello aveva una spiegazione. Sulla trattativa stato-mafia c'è ancora di peggio perché mentre il caso Andreotti si basava prevalentemente su parole di mafiosi pentiti, collaboratori di giustizia, e quindi si poteva dire che si erano messi d'accordo in 30 o in 40, anche se non si erano mai parlati tra di loro, non si erano mai conosciuti per attaccare questo santuomo. Il processo sulla trattativa stato-mafia diciamo che sta in piedi pulito e lindo anche se si eliminano tutte le parole di tutti i collaboratori di giustizia. Nella sentenza i giudici fanno una scelta addirittura più drastica, eliminano del tutto le dichiarazioni di Massimo Ciancimino che è il testimone imputato che a un certo punto decide semplicemente di raccontare quello che gli raccontava suo padre, quello che vedeva a casa sua e di suo padre e quali incarichi riceveva da suo padre per andare a ritirare o a portare pizzini, papelli e fare un po' il ragazzo di bottega del padre che stava agli arresti domiciliari e incontrava ufficiali dei carabinieri eccetera. I giudici hanno detto lasciamo perdere, mettiamolo da parte, basiamoci soltanto sui fatti riscontrati, sui documenti, sulle dichiarazioni, non dei pentiti, dei politici che hanno ritrovato tutti quanti la memoria dopo vent'anni di letargo proprio quando Ciancimino con le sue rivelazioni, poi i giudici le hanno messe da parte, ripeto, si sono accesi improvvisamente ricordando nitidamente vent'anni dopo ciò che vent'anni prima quando in teoria avrebbero dovuto avere la memoria più fresca non ricordavano nulla. E questo processo quindi si basa su fatti, su fatti che non sono venuti fuori il giorno in cui è stata pronunciata la sentenza alla metà di aprile di quest'anno, un mese e mezzo dopo le elezioni, fatto non casuale secondo me. Dubito che si sarebbe trovato il coraggio di fare una sentenza così esplicita se fossero stati ancora al governo coloro che lo sono stati nei venticinque anni successivi alla trattativa. Non è un caso che questa sentenza venga fuori, secondo me, è la mia opinione, proprio nel momento esatto in cui coloro che hanno avviato la trattativa e coloro che l'hanno chiusa sono usciti dall'area di governo, sbattuti fuori a calci dagli elettori. E questo la dice lunga su quanto è difficile tradurre in pratica il principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura. Mani pulite potè scoppiare soltanto quando la prima Repubblica era finita. La sentenza sulla trattativa, così come la leggiamo, ha potuto uscire soltanto dopo la morte di quella che abbiamo chiamato forse abusivamente Seconda Repubblica. E lì ci sono dei fatti in quella sentenza che non sono stati scoperti a metà aprile di quest'anno. Questi fatti si sono cominciati a scoprire a far data dalla metà circa del 1996, cioè quattro anni dopo le stragi di Capace e Via D'Amelio, 22 anni fa, quando Giovanni Brusca, interrogato come imputato nel processo di Firenze per le stragi del 1993 di Roma, Firenze e Milano, raccontò che Salvatore Riina gli aveva detto che le stragi funzionavano, che la strategia stragista pagava, che i carabinieri si erano fatti sotto, che lo Stato era venuto a chiedere un patto e che lui gli aveva fatto un papello così di richieste. Chi fu interrogato subito dopo? Furono interrogati i carabinieri che erano stati citati da Giovanni Brusca, e cioè il generale Mori e il capitano De Donno, i quali non è che andarono davanti alla corte d'assise di Firenze a dire non è vero niente, è un pugniatore, il solito pentito. Dissero sì è vero, andammo da un mafioso Vito Ciancimino e avviamo una trattativa, la chiamarono così entrambi, nel 1996 c'è un filmato sul web per sapere che cosa voleva la mafia per interrompere e chiudere la stagione delle stragi. A quel punto hai il rappresentante della mafia che dice che Riina gli raccontò della trattativa, hai i rappresentanti dello Stato che hanno condotto quella trattativa, che la chiamano entrambi trattativa, ma di quale prova abbiamo ancora bisogno? Non noi magistrati, perché io non faccio il magistrato ma mi interessa, ma noi giornalisti per dire che c'è stata una trattativa. Dopodiché uno la può valutare, poi gli avvocati, i magistrati, i giuristi diranno è un reato, non è un reato, è quel reato lì, violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, è un altro reato, non è reato, è a fin di bene, è per la ragione di Stato, si può dire tutto quello che si vuole, ma almeno cavolo, mettiamo un punto fermo, la chiamano trattativa tutte e due le parti che l'hanno fatta. E no, noi per vent'anni abbiamo sentito dire, ho letto sui giornali, su tanti, non su tutti per fortuna, la presunta trattativa, la cosiddetta trattativa, la supposta trattativa, l'eventuale trattativa e continuano a dirlo anche adesso che c'è una sentenza di primo grado e continueranno a dirlo probabilmente anche dopo che ci sarà una sentenza definitiva, come se le sentenze potessero cancellare i fatti, le sentenze possono inquadrare i fatti giuridicamente in un modo o nell'altro, possono dire quello l'ha fatta, quello no, quello ha fatto un reato, quello no, ma non possono cancellare un fatto che è assolutamente assodato dal 1996, non ci sarà nessuna sentenza che dirà che non c'è stata la trattativa, bisogna che ci si rassegni, anche quelli che non amano sentirsi dire che lo Stato ha sempre fatto il doppio gioco e nel 1992 con il doppio gioco pubblicamente annunciando guerra dura alla mafia e sotto banco trattando con la mafia non ha fatto altro che rafforzare la mafia e prolungare una stagione di stragi che se non si fosse fatta la trattativa sarebbero probabilmente finite prima, lo sappiamo benissimo, la piaga dei sequestri di persone a scopo di estorsione da parte dell'anonima in Calabria dei briganti sardi e delle loro propaggini nel centro e nel nord Italia è stata stroncata dopo tanti anni, tanti morti e tanti rilasciati quando lo Stato ha disposto semplicemente il sequestro dei beni, cioè ha vietato le trattative tra i familiari e i sequestratori. sappiamo benissimo che il terrorismo è finito anche se ha avuto una lunga coda a strascico di sangue quando lo Stato ha deciso di non trattare per il rilascio di Aldo Moro e di non riconoscere politicamente le Brigate Rosse, che badate non è che chiedessero delle leggi a favore di semedesime, chiedevano semplicemente un riconoscimento politico con la liberazione di qualche detenuto che non si fosse macchiato di reati di sangue, tant'è che qualcuno stava trattando, ma fu preceduto dall'assassinio di Moro. Qui la mafia chiedeva di smantellare la legislazione antimafia e ha ottenuto una parte di quello smantellamento, perché poi negli anni successivi quella trattativa che si era chiusa nel 1994 con la fine delle stragi per dare modo e tempo al governo Berlusconi di rispettare gli impegni, produsse degli effetti tutti a vantaggio di Cosa Nostra. Furono chiuse le supercarceri di Pianose e Asinara, fu ammorbidito sempre più il 41 bis dopo che erano stati revocati i 41 bis a 334 mafiosi. Noi per due anni abbiamo abolito l'ergastolo, nessuno se lo ricorda, ma il centro-sinistra nel 99 abolì l'ergastolo estendendo il rito abbreviato per il reato di strage con i relativi sconti, l'ergastolo per le stragi diventava 30 anni. Per due anni c'è stato quel buco, è stata devastata la legge sui pentiti, da allora praticamente di pentiti importanti non ce ne sono più stati. Non si è fatto tutto e questa è la ragione per cui coloro che hanno preso impegni 25 anni fa tremano perché adesso non hanno neppure più il potere di rispettare quegli impegni perché hanno perso gli uni e gli altri per la prima volta dopo 25 anni il controllo delle leve del potere. Io penso che Berlusconi non possa ritirarsi dalla politica anche se è ridotto come è ridotto per la semplice ragione che se uno si ritira dalla politica e dimostra di non contare più nulla e di non poter influire per nulla sulle sorti della politica e della legislazione deve ricordarsi che cosa è successo a Salvo Lima nel 1992. Oggi ci sono ancora sopravvissuti alcuni Salvo Lima che si domandano se quella brutta usanza di punire i traditori come fu punito Salvo Lima sul litorale di Mondello è ancora in voga o se è stata sostituita con qualche strumento di vendetta meno truculento. Quindi la domanda resta che cosa ha questo processo che è secondo me il più importante che si sia celebrato ma forse non solo in Italia, io non trovo degli uguali. Noi abbiamo tre governi che sono stati ricattati dalla più grande organizzazione criminale aiutati i ricattatori da esponenti delle istituzioni che veicolavano il ricatto mafioso ai governi e i governi ovviamente hanno sempre fatto finta di niente, pubblicamente hanno sempre detto di non avere mai scoperto nulla, di non avere mai saputo nulla, di non avere mai subodorato nulla di quei ricatti, però casualmente una parte delle richieste presenti nel papello di Riina è stata poi esaudita negli anni successivi con una pervicacia e con una scientificità nel presentare proposte e nell'ottenerne poi la realizzazione che non ha alcuna altra spiegazione se non per il fatto che tutta la classe politica della seconda repubblica sapeva benissimo di essere sotto ricatto e sotto osservazione e di avere una lista di impegni da rispettare semplicemente per salvare la propria pelle, non per salvare lo Stato perché lo Stato era già stato devastato per due anni dalle stragi che come dimostra anche la sentenza ma come tutti sanno si erano moltiplicate proprio perché lo Stato aveva cominciato a trattare e Riina che era tutto fuorché uno stupido sapeva che uno Stato in ginocchio con il cappello in mano e chiede pietà alla mafia sarà disposto a concedere tanto di più quanto la mafia alzerà il tiro per alzare il prezzo della trattativa. Ecco queste cose che fanno, ripeto, accapponare la pelle a leggere questa sentenza sono confinate in ristretti circoli qualche magistrato, qualche giurista qualche giornalista, qualche testata non diventano patrimonio nazionale perché c'è un muro di gomma che fa impressione, che fa spavento se uno valuta il peso di questi fatti assolutamente accertati al di là poi della loro qualificazione giuridica e dall'altra parte l'assoluta incoscienza delle persone che non lo sanno e che quindi non hanno gli strumenti base per giudicare anche la politica di oggi per sapere per quale motivo un vecchio leader non si ritira, per quale motivo la principale preoccupazione sua è quella che Dell'Utri non ritorna in carcere, per quale motivo abbiamo dei paesi che ospitano i nostri latitanti e Dell'Utri doveva finire in uno di questi paesi, cioè ci mancano proprio alcuni strumenti fondamentali per capire i macrofatti che hanno dato origine alla Seconda Repubblica e che continuano a inquinare la terza fino a quando l'ultimo partecipante o insabbiatore di quella trattativa sarà in vita. La domanda non riguarda soltanto noi giornalisti, riguarda il mondo del diritto. Questo processo è stato definito una boiata pazzesca da un insigne giurista, Giovanni Fiandache che è un po' il Mel Brooks del diritto italiano e non è stato spernacchiato questo signore, è stato elogiato, omaggiato eccetera eccetera, dentro la magistratura anziché un minimo di gratitudine a quei pochi magistrati, qui c'è Nino Di Matteo ma ce n'erano anche altri, Teresi, inizialmente Ingroia, Del Bene, Tartaglia, che hanno fatto questo processo, inziché nutrire un po' di gratitudine per il Presidente Montalto che ha scritto la sentenza insieme alla sua giudice Alattere Sibile e ai giudici popolari della Corte d'Assise. C'è stato un silenzio, un isolamento, addirittura un atteggiamento, diciamo persecutore, diciamo punitivo per cui questi magistrati sono stati trascinati, alcuni di loro davanti al CSM e di scolparsi non si è ancora capito di che cosa. Semplicemente di non essersi uniformati a quel clima generale di omertà che tiene insieme destra e sinistra e che in questi anni ha garantito a un personaggio per esempio come il generale Mori di fare una carriera meravigliosa prima di andare in pensione e anche dopo. Ci sono persone in Italia che fanno carriera anche dopo la pensione, uno dice finalmente è andato in pensione. No, continuano a progredire pure dopo. Anche su questo bisognerebbe domandarselo. Ci sono persone che anche quando vanno in pensione non possono essere lasciate sole. Devono essere continuamente sostenute. Perché? Perché devono continuare a ricevere incarichi sempre più prestigiosi? In fondo, sapete, io non penso che il generale Mori alla sua età debba finire in galera. Spero che non ci finisca. È un anziano signore. Ma la domanda è, nel 92 arresti il linee e non perquisisci il covo. In un paese serio ti mandano a dirigere il traffico. Perché evidentemente sei un incapace. Se ti dimentichi di perquisire il covo del più importante e pericoloso latitante del mondo, forse. Non perquisisci il covo. Questo nel 93. Nel 90, pochi mesi dopo, un suo collaboratore gli porta su un piatto d'argento nitto Santa Paola. Gli dice anche dove è nascosto. In un villino. Il rosso organizza un'operazione talmente maldestra e riesce a perquisire il villino accanto, facendo un casino tale per cui Santa Paola, vedendo tutti i carabinieri che arrivano e perquisiscono il villino sbagliato, capisce l'antifone e si allontana. Che cosa gli fanno a questi, che come minimo sono dei cialtroni? Li mandano a dirigere il traffico? No, li promuovono tutti quanti. Nel 96 un altro collaboratore di Mori gli porta su un piatto d'argento Bernardo Provenzano e gli dice guarda che ci incontriamo in quel casolare di mezzoiuso. Fatevi trovare, l'ora è questa, non potete sbagliare stavolta. Stavolta non essendoci altri casolari alternativi da perquisire al posto di quello giusto, si limitano a non fare nulla. Fanno un servizio d'osservazione a distanza, così vedono Provenzano che entra, fa la riunione, esce e non lo prendono. Che gli fai a uno così? Magari è soltanto un incapace recidivo, è uno che non è portato per quel mestiere lì. Lo promuovono comandante direttore del SIS, del servizio segreto civile. Dopo averlo promosso comandante del ROS, perché prima era solo vice e quindi il talento va premiato. Allora queste carriere, che funzionano all'incontrario, cioè più sbagli, più agevoli la mafia e più vieni favorito nella tua carriera. Ma domandiamoci il perché. Perché quelle carriere non le decide mica il generale Mori per se stesso, le decidono i ministri, le decidono i governi. Per quale motivo Mori non solo non doveva essere degradato sulla pubblica piazza, ma doveva essere promosso continuamente. E perché dopo la pensione il sindaco Alemanno ne fa il capo della sicurezza del comune di Roma. E perché non contenti lo promuovono osservatore e ispettore sulla regolarità degli appalti di Expo a Milano. Dove praticamente c'era di tutto, c'erano i tangentisti che pigliavano le mazzette, c'erano le imprese dell'Andrangheta che prendevano i subappalti. Lui non ha visto assolutamente niente, perché? Ma uno che non ha perquisito il covo di Rina, non ha arrestato Santa Paola e non ha arrestato Provenzano. Volete che si accorga delle infiltrazioni mafiose e tangentizie negli appalti di Expo? Ecco, questa è una carriera paradigmatica di un signore che se voi leggete non ha mai ricevuto una critica nemmeno pallida da nessun esponente della politica che ha governato in questi 25 anni. Domandiamoci il perché. Allora, se voi allargate l'orizzonte a tutte le persone che in questi anni sapevano perfettamente che cos'era stata la trattativa, quali erano gli impegni che andavano mantenuti e quali erano le persone da soddisfare in carriera per farle stare zitte, perché questa è la pura e semplice verità, come Berlusconi è costretto a pagare decine di oggettine per farle stare zitte, più dell'utri, un'intera classe politica e dirigente ha passato questi 25 anni a pagare centinaia e centinaia di servitori infedeli dello Stato perché stessero zitti su quello che avevano fatto e su quello che avevano saputo della trattativa Stato-mafia. E purtroppo la gran parte dell'informazione, anziché smascherarli, li ha coperti. Questo è il vero problema, che non riguarda chi fa informazione di inchiesta come i colleghi che sono a questo tavolo, ma chi fa un altro tipo di informazione, chi fa informazione embedded, chi fa informazione a servizio del potere. Mori lo sanno tutti chi è, però lasciamo perdere. Contrada lo sapevano tutti chi era, però lasciamo perdere. Andreotti lo sapevano tutti chi era, però lasciamo perdere. Il covo di Rina non è stato perquisito perché lo sanno tutti perché non è stato perquisito, però lasciamo perdere. Continuiamo a credere alla favoletta che è stato un equivoco e anche la mancata cattura di Provenzano e anche la mancata, anzi, l'agevolazione della fuga di Bagarella. E poi è tutto un caso se hanno chiuso le carceri di Pieno Sesinara, è un caso se hanno abolito l'ergastolo, è un caso se hanno depotenziato la legge sui pentiti e il 41 bis. Sono tutte casualità, però se voi leggete questa sentenza, ma anche prima che uscisse questa sentenza, se guardavate la cronologia dei fatti, vi assicuro che tutte queste casualità avrebbero una logica e noi non possiamo vivere da 25 anni pensando che tutto accada per caso. Il nostro compito di giornalisti, non dico di scoprire più di quello che ha scoperto la magistratura, perché noi poi le perquisizioni lì, i sequesti e le intercettazioni li possiamo fare, ma almeno raccontare quei fatti documentati e inoppugnabili avremmo dovuto farlo. Io penso che la nostra magistratura, che ha scritto pagine pessime e che ultimamente si sta coprendo di vergogna, fino all'ultima vergogna del CSM che preferisce un parlamentare in carica a un vicepresidente indipendente, ha però sulla trattativa, grazie ad alcuni magistrati, scritto una pagina molto luminosa, che invece per quanto riguarda la nostra corporazione è stata una pagina nera.